musica 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 bene ragazzi qui è Eberman ben ritrovati nel mio canale siamo qua ragazzi su qui a 17 un po' per cazzeggiare con torneo non torneo ma che torneo con nazionali femminili con nazionali femminili mi sa che non l'ho più portato dopo su youtube se non ne sbaglio l'ho portato mi ricordo all'inizio e poi basta mi sa che abbiamo terminato molto presto basta basta piacere basta si gioca si gioca stati uniti germania il derby femminile mamma mia che pressing giochiamo col pressing mettiamo la schema uff cazzarola che miracolo calcio d'angolo dopo i testa fuori questo tiro bersaglio ancora stati uniti che cercano di salvarsi c'è Robin hit grande pole rapino prova andare palla per hit ancora hit se ne va in velocità ancora hit la baby ancora hit cerca il varco hit bocacciare sinistra secco palla gol top in hit proprio la baby horse anche lei la baby mini baby horse anche lei dopo la moda c'è anche il hit 1-0 mamma mia che si duro ma guarda che tiro ma guarda che tiro ma guarda che tiro col pescara non si riesce a fare si tiro non si può non si può perchè pescara non è così ovvero 86 ma che tiro fa si ha lasciato un mancino cazzarola proprio incrociare incornata incornata 1-0 vai lung ha un gran tiro ha un gran tiro ma no non è possibile non è possibile questa è questa ragazzi ieri ha fatto due tiri uguali uguali fuori area tira un destro micidiale alle lung ma che giocatrice ma che giocatrice ma guarda che questo si deve pescara questo si deve pescara va, per tornare in serie, Ali Long, cazzo, che tiro, imprengibile, buco, 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 fuori, mamma mia, cosa se l'ha maniata, anche un'altra baby horse, no, andrà a lasciare il tiro, traversa piena, ma porta vacca, sapevo, va dai, che cazzo, che va il tiro, va il tiro, bisogna bloccarli, non lasciamo i pezzi, bravissima, oh, la finta, uno, attacco, digger, finta, bravissima, giro palla, uno, due, no, non adesso, non adesso, non adesso, non adesso, mamma mia, occhio, qui c'è un buco clamoroso, c'è il gol, l'hai incornata, l'hai incrociata, c'è il 2-1, vuole raccogliere palla, non ci riesce, Harris rischia tantissimo, Harris rischia tantissimo, questo qua, non bisogna scherzare, perché c'è esperienza, infione, il tiro, non ci siamo, no, troppo facile, lasciate, troppo facile, troppo facile, troppo facile, che è fortuna, che è fortuna, che è fortuna, Harris la tiene lì, vai, apriamo con un mini contropiede, bravissima Morgan, ho detto spai la porta, giochiamo, ho detto si gioca spai la porta, oh, no, porca troia, oddio, no, giochiamo a contropiede qua, attenzione, attenzione, palla in the box, palla in the box, palla in the box, troppo dietro, troppo dietro, Harris, mamma mia, Harris, sarà tutto, non c'è più la, la nostra solo, avanza, avanza, è finita, è finita, è finita, 2-1, è finita, 2-1, è finita, 2-1, che soffetta, mamma mia, soffettissima, soffettissima, insomma, vittoria meritata, immeritata, ma questo è il calcio, quante volte ho perso io, così, quante volte abbiamo noi perso, così, eh, eh, quante volte abbiamo noi perso, giocando bene, quante volte, e siamo comunque in divisione 3, ragazzi, 4 ritorno, un pareggio, e siamo presso e promossi in divisione 2, andiamo con 5 partite, eh, si promette molto bene, molto molto bene, niente, però c'è stato tutto, un video così di FIFA 17 dopo tanto tempo, e noi ci vediamo, ovviamente, nel prossimo video, bella ragazzi. Ciao, 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 ciao. Grazie per la visione!